Oh no! Stanco di sprecare un altro preziosissimo weekend verniciando? Il rullo non copre tutta la superficie in modo uniforme? Il pennello sembra indomabile? Sei stufo degli schizzi delle macchie di fare continuamente su e giù sulla scala? Dimenticati dei pennelli e dei rulli e anche degli incidenti con le vaschette e i barattoli di vernice! Adesso puoi dipingere come un professionista con l'avanzata tecnologia spruzzo! Ti presentiamo Paint Zoom, il nuovo strumento professionale che converte la verniciatura in un gioco da ragazzi! Adesso in pochi minuti puoi trasformare qualsiasi stanza in un ambiente accogliente! E' facilissimo! Basta premere il grilletto e verniciare! Immagina di verniciare questo, questo e questo e di convertire una cosa normale in sensazionale o trasformare l'ordinario in straordinario! Con Paint Zoom chiunque può dipingere, colorare e verniciare come un professionista! I professionisti utilizzano pistole a spruzzo perché riescono a finire il lavoro in poco tempo e con una rifinitura superlativa! Ora puoi dipingere come un professionista e senza spendere una fortuna grazie a Paint Zoom! E' lo strumento per verniciare che permette a qualsiasi proprietario o inquilino amante del fai da te e pittore della domenica di ottenere risultati professionali senza spendere una fortuna! Paint Zoom è realizzato con materiali molto leggeri e resistenti! All'interno delle unità portatile c'è un motore da 650 Watt in grado di dare la potenza necessaria anche per i progetti più ambiziosi! Basta premere il grilletto e Paint Zoom eroga la quantità di prodotto perfetta per dipingere qualsiasi superficie! E' così facile che vernicerai come un professionista! Puoi verniciare in verticale o in orizzontale e scegliere persino un getto più concentrato per raggiungere i punti più reconditi dove il rullo e il pennello non arrivano! Paint Zoom fa tutto il duro lavoro e in pochi minuti puoi verniciare quelle superfici che richiederebbero ore con il pennello o il rullo! E' perfetto per pareti, stucco, mattoni, pannelli, cemento, legno e molto altro! Adesso puoi recuperare e restaurare cose che pensavi non avresti mai più riutilizzato o dare un tocco di colore ai tuoi vecchi mobili! Paint Zoom fa fare un passo indietro nel tempo, trasforma le cose da buttare in oggetti preziosi e una casa normale diventa meravigliosa! E' tutto con una sola passata, facendo risparmiare tempo e denaro! Di addio a pennelli, rulli e vaschette e inizi a verniciare con Paint Zoom! E' accompagnato da un certificato che ne garantisce la qualità e l'affidabilità! Per pochissimi soldi le cose vecchie torneranno nuove, quegli spazi anonimi diventeranno ambienti piacevoli e migliorerai l'aspetto di casa tua!